Prenotazioni non in linea con le aspettative, così la compagnia Fly Dubai sposta il volo diretto da Cagliari per Dubai trasferendosi a Olbia, lo scalo controllato dal fondo F2I. La decisione viene comunicata in una nota congiunta da Soga e Regeazar, che per evitare il rischio di cancellare la Sardegna dall'opportunità di sfruttare il primo diretto collegamento intercontinentale di linea, hanno avviato un tavolo di confronto consentendo di mantenere l'isola nel network di Fly Dubai. Una dichiarazione non credibile agli occhi dei presidenti di Confcommercio e Confindustria Sud Sardegna, che hanno definito il dirottamento come un vero e proprio scippo dall'aeroporto di Olbia su Cagliari. La verità è che è stato commesso uno scippo al territorio del Sud Sardegna ed è stato tirato uno schiaffo violento alla Camera di Commercio di Cagliari e dalla regione. Lo scippo del volo Fly Dubai da Cagliari a Olbia è l'antipasto di quello che può succedere quando un fondo speculativo a scopo di lucro ha degli aeroporti a sua disposizione, cioè sceglie esattamente di spostare dei voli dove lucra maggiormente. Un cambio di rotta che arriva proprio nel periodo più caldo per gli aeroporti, che stanno affrontando l'acceso dibattito sulla gestione unica degli scali sardi. Cioè saremmo vessati e saremmo succubi di una gestione privatistica che bada solamente al lucro. La verità è che il presidente De Pascale non governa e non controlla più il processo e noi gli suggeriamo di cambiare immediatamente rotta per non far schiantare la Camera di Commercio di Cagliari. Un'antiprima di quello che potrebbe succedere se il fondo speculativo F2I avesse il monopolio di tutti gli aeroporti della Sardegna. E nonostante nelle sue dichiarazioni faccia buon viso o a cattivo gioco, non si può certamente dire che dopo cinque anni di lavoro vedersi scippare un volo così rappresentativo possa essere un punto positivo.